bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono oxyuder e ragazzi anche oggi un bel po di novità per quello che riguarda il futuro e le news di fortnite parleremo delle sfide di tina ma vedremo anche tanti argomenti caldi sui vari forum dedicati a fortnite e al competitive volevo subito però ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xuderone grazie mille ragazzi per il vostro aiuto e soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e anche di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica col mio video news delle 13 e 30 ma nel video di oggi come abbiamo già anticipato parleremo anche del monte premi appunto dell'fncs c'è un bel dibattito in corso aperto da nick merckx che ha avuto un bel po di consensi ma anche un sacco di critiche e poi vi farò vedere se abbiamo tempo anche un bug dello shield una roba molto molto particolare che si trova nell'agenzia ma prima la domandina lo sapete che ci tengo un sacco a leggere i vostri commenti proprio qua sotto domanda di oggi un grande grandissimo classico ma te quale fucili a pompa scegli il pompa singolo del nonno oppure il tac dai raga sono proprio dibattuti da sempre come potenza entrambi i fucili hanno i loro bag hanno i loro punti forza io personalmente scelgo sempre il tac mi piace un sacco mi ci trovo bene a volte mi toglie 20 però dimmi quale preferisci tu qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito ragazzi a parlare di una notizia che oramai ha cominciato a fare il giro del mondo da qualche ora siamo infatti davanti al cospetto di ninja sulla destra e reverse 2k sulla sinistra un duo che storico di fortnite che ha partecipato alle qualifiche di tantissimi tornei competitive ma che purtroppo come lo stesso reverse 2k twitter sulla sua pagina è giunto al termine perché è giunto al termine perché non giocano più insieme ninja e reverse beh ci sono delle idee un po diverse su entrambi i lati mi spiego meglio reverse è rimasto molto molto sul competitive e tuttora prova a giocare con 6 suede non so chi caspita sia quello con cui gioca appunto per provare le qualifiche ai vari competitive ninja invece diciamoci un po la verità da quando si è spostato su mixer è anche un pochettino rientrato nell'ombra per quanto riguarda sicuramente il panorama italiano che già lo seguiva ma magari un po meno rispetto ai nostri connazionali ma soprattutto per il panorama europeo appunto essendosi spostato su mixer ninja stesso ha dichiarato poi per far traboccare il vaso che nell'ultima nelle ultime prove negli ultimi qualifichi che hanno fatto la colpa del non essere riusciti a qualificarsi è stato appunto di reverse questo non è andato giù e allora appunto il duo si è sciolto è un peccato purtroppo ninja comunque rimane sempre un grande reverse farà la sua strada e uno dei duo più forti si è sciolto da qualche ora ma andiamo avanti ragazzi perché oggi è una giornata molto molto interessante per quanto riguarda il livellamento del nostro pass battaglia alle mie spalle come vedete c'è tina in questa bellissimo in questo bellissimo primo piano ma tra pochissimo arriveranno le sfide di tnt tina si chiamerà in inglese tnt china trials e le andiamo a vedere insieme sono 10 sfide da 40.000 punti esperienza luna cercare forzieri a parco pacifico oppure pantano palpitante distruggere le strutture degli avversari con le mine di prossimità oppure con i c4 pescare con gli esplosivi le granate l'rpg l'esplosivo c4 lo buttate nei punti di pesca e pescate eliminare i giocatori all'agenzia oppure a sabbie sudate cercare scatole di munizioni in differenti in posti nominati differenti quindi tutte le città che hanno un nome le dovete potete cercare le scatole di munizioni utilizzare le granate clonazione fare danni agli avversari mentre si sta sopra una barca se fare una scansione di uno scagnozzo in match differenti ci sono un sacco di location un po meno frequentate dove trovate comunque gli scagnozzi vicino a sabbia sudate nella casetta in alto dove ci sono scogliere insomma ragazzi i posti li conoscete bene visitare grumpy greens mowdown e risky lils allora rapidi rischiose mowdown e grumpy greens sinceramente in italiano non lo so ma vi preparerò un altro video oggi che vi spiega un po come fare e per terminare collezionare diverse armi dei boss quindi nei vari nelle varie location basta semplicemente buttare giù il boss e recuperare l'arma tanta roba perché danno veramente un sacco di punti esperienza ma andiamo avanti ragazzi è un'altra cosa molto interessante dovrebbe arrivare questo venerdì si parla ovviamente della settimana numero 4 delle sfide di deadpool una settimana che è veramente particolare perché il regalo che ci verrà dato è particolare mi riferisco come vedete là in basso al backpack della doppia katana meraviglioso abbiamo già ricevuto tre regali di deadpool della skin ancora non si sa nulla ma il backpack tanta roba per prenderlo dovremmo fare le solite due sfide trovare le catane di deadpool vi farò il video non vi preoccupate e fare danno alle strutture avversarie in questo modo otterremo in game il backpack delle doppie catane e come vedete ragazzi invece siamo direttamente con nick merckx perché siamo con nick merckx perché ha tirato su un bel casino per quanto riguarda il competitive di fortnite e più precisamente le fncs le fortnite championship series che sono state annunciate ufficialmente due giorni fa qual è l'argomento è sempre lo stesso nick merckx dice perché dobbiamo fare lo stesso montepremi o comunque un montepremi molto simile per chi gioca da mouse e tastiera e per chi gioca da controller mi spiego meglio se vi ricordate quando abbiamo visto le world cup l'anno scorso c'erano dei giocatori con il controller questa cosa nick merckx dice è molto più difficile giocare con mouse e tastiera da pc e non ha senso che vengano matchate le persone che utilizzano il controller su una piattaforma che possa arrivare fino a 240 fps è un argomento di cui si potrebbe parlare fino a dopodomani la community ovviamente ha detto la sua è partito un ping pong di botta e risposta che sicuramente è arrivato anche all'orecchio di fortnite che sembrerebbe essersi mossa finalmente su questo punto di vista abbiamo visto ad esempio direttamente in questi giorni la rimozione della legacy per chi utilizza il controller su pc mentre ovviamente chi usa il controller su console non ha questo tipo di problema e quindi rimarrà solo la mira lineare ed effettivamente dai lo si vede subito in game ne parliamo sempre di quanto sia facile capire un giocatore da pad su pc e un giocatore da mk su pc tra l'altro anche mongral fa un tweet e dice se tu arrivi primo in tutte e quattro le settimane di qualifiche di qualifiche vincerai un totale garantito di 45 mila dollari poi dice se invece vincerai una settimana nelle sfide a trio prenderai un monte premi totale di 32 mila dollari gg cosa vuol dire vuol dire che anche lui dice epic games c'è bisogno di ribilanciare i monte premi adesso io posso capire che tra di noi probabilmente non ci sarà nessuno intanto state vedendo tutti i vari monte premi delle varie competizioni che arriverà a qualificarsi fino alle fasi finali però secondo me epic games sta facendo piano piano piccoli parsi per separare il matchmaking mouse tastiera e controller insomma ragazzi anche per oggi tutte le news io ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali io sono in live sulla piattaforma viola ciao